Il patto educativo è ormai rotto, per questo è quanto mai necessario armonizzare la missione di tutti gli agenti responsabili dell'educazione, costruendo ponti a scuola, in famiglia e nelle società. Lo ha sottolineato Papa Francesco chiudendo il IV Congresso Mondiale delle Scolas Occurrentes. La rete internazionale di scuole, nata in Argentina per volere dell'allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, oggi conta 400.000 istituti sparsi nei cinque continenti e uniti da sport, scienza e tecnologia. In un dialogo aperto e spontaneo, con alcuni ragazzi disabili collegati in videoconferenza da varie parti del mondo, il Pontefice ha confessato di non avere molta dimistichezza con la tecnologia e ha ricordato che ognuno di noi ha un tesoro dentro, che deve essere condiviso. Dinanzi alle difficoltà poi la raccomandazione è stata di non arrabbiarsi e di non spaventarsi, perché pensando con calma si trova sempre la strada per affrontare tutto. Riflettendo sull'odierna sfida educativa, Papa Bergoglio ha infine incoraggiato la valorizzazione della bellezza che si esprime nelle arti come la letteratura, la scultura, la pittura. In particolare, aggiunto, ogni cultura dovrebbe recuperare le fondamenta dell'identità nazionale.